Sindaco Colangelo, Sansevero si tinge di viola, si tinge di gentilezza, questa sera tutti insieme anche l'amministrazione comunale. Sansevero si riscopre gentile, finalmente gentile. L'amministrazione comunale ha voluto fortemente partecipare questa sera alla cena della gentilezza, un momento fondamentale e importante per riscoprirci comunità. Ora dobbiamo partire dalla gentilezza non solo in forma retorica, ma per farla diventare attributo fisso e costante della nostra collettività. L'amministrazione comunale adotterà certamente il manifesto delle parole non ostili e adotterà atteggiamenti gentili nella massima sise cittadina e in mezzo alle strade, così da essere da esempio per tutta la cittadinanza. Ambasciatrice, anche quest'anno un evento che trascina tanta gente qui a stare insieme. E' certo, terza edizione che inizia col botto, con una serata speciale dedicata al nostro amato Matteo Marolla, con 300 persone sedute a tavola. Abbiamo cambiato la location e quindi siamo un po' più larghi e così anche più di 300 persone possono unirsi a noi a fare comunità, perché il senso della cena della gentilezza è questo, è fare comunità in questa città. Mi sono trovata qui per caso ad essere intervistata, ma il gruppo di lavoro è veramente grandissimo. Ognuno di noi fa qualcosa, ma questo è un momento di aggregazione per tutta la città. Spero che anche l'amministrazione sia con noi questa sera, perché sarà bello ritrovarci tutti insieme e condividere questo momento di grande gioia per volersi bene e stare insieme. Grazie a tutti.